E' ufficiale questa sarà la nuova versione delle Jordan 4 SB, una delle paia e secondo me la scarpa migliore uscita nello scorso 2023 e che ha lasciato a bocca aperta tantissimi appassionati per il fatto che è proprio una collaborazione fatta bene tra Nike e il reparto di Nike SB ovvero skateboarding. Sempre rimanendo in tema Jordan 4 no questa Blue Thunder attenzione perché non è un paio falso molto probabilmente avrei visto nei social questo modello ma finalmente Nike lo rilascerà. Tutto questo e molto altro ragazzi nel video di oggi ovvero nel nostro appuntamento domenicale di Caffè Hype il format dove andiamo a parlare di tutte le news che ci sono state durante il corso della settimana di sneakers di quello che ci potrebbe interessare a noi. Quindi io mi son fatto il caffè mi metto la mia bustella di zucchero una bella mescolata e alla vostra. Allora come piace fare a noi facciamo un recap dei drop che ci sono stati durante il corso di questa settimana. Ieri avete visto che è uscita la Jordan 4 Vivid Sulfur nell'applicazione sneakers quindi il modello da donna che vi ho portato già due settimane fa in pre-release e le taglie rilasciate sono dal 35 e mezzo fino al 44 e mezzo. Come vi avevo già detto questo non era un paio difficile da riuscire a comprare alcune taglie sono rimaste in stock quindi se volevi cercare il nuovo paio di Jordan 4 senza spendere cifre folli allora assolutamente questo poteva fare al caso tuo. Anche se come vi ho consigliato io sinceramente aspetterei il prossimo mese perché già ad inizio maggio ci saranno le military blue. Questa è una scarpa ragazzi che non potete assolutamente mancare colorazione iconica ve ne ho già parlato ve la porterò quindi senza che stiamo qui a parlare tanto di dettagli uscirà il 4 maggio quindi attenzione e già su discord stiamo già mandando i link delle raffle quindi puoi entrare cliccando il link in descrizione o nella scheda in alto a destra. Oltre a queste sono uscite anche le Kobe Venice Beach queste molto interessanti i modelli Kobe comunque sono davvero tanto apprezzati nel panorama proprio di basket per gli atleti che lo professano quindi poteva essere anche questo un ottimo cop. Poi c'è da dire attenzione che le Vivid Sul forse sono rimaste in stock per un po' nell'applicazione sneakers di Nike e quindi non sono buone se siete dei reseller della domenica quindi con l'annuncio su Vinted eccetera ma se avete un brand come il mio ad esempio o come quello che hanno tantissimi altri ragazzi dentro alla nostra community riuscite a flipparle molto 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 bene. Ah un'altra scarpa che è uscita quasi me ne stavo dimenticando sempre durante il corso della mattinata di ieri sono le Green Glow purtroppo l'hype per il modello Jordan 1i ma in realtà anche low è molto molto basso a meno che non si tratti di qualche colorazione particolare oppure di una collaborazione diciamo che le paia rimangono in stock e soprattutto vanno anche under retail. La colorazione non è affatto male anche questo paio è solamente da donna se non sbaglio no forse no questo che numero è questo è un 42 non mi ricordo forse sto confondendo con le Jordan 1i latte che vi porterò in pre-release che usciranno a fine maggio quindi il modello dark mocha sbiadito per capirci. Che dire un paio abbastanza interessante nulla di troppo incredibile diciamo che Nike produce tante di quelle colorazioni che vi consiglierei anche in questo caso magari di aspettare il prossimo mese a meno che non vi piaccia davvero molto. Le latte secondo me saranno un grandissimo copp. Prossima settimana c'è da stare attenti principalmente per il restock delle Dunk Low Chicago SB nella versione JPEG. In realtà vi ho detto che sarebbero potute uscire anche proprio ieri quindi sabato. Non è stato così attualmente non c'è un lancio ufficiale non c'è una data ufficiale sappiamo che ci sono tante paia e il numero preciso l'abbiamo mandato nella community. Caricate nell'applicazione sneakers di Nike e quindi sappiamo che verranno restoccate a breve. In America c'è stato anche un drop delle Jordan 4 Military Blue e potrebbe esserci anche un lancetto delle Jumpman Jack alcuni dicono il 26 aprile. Non penso secondo me il lancio ufficiale arriverà il 30 quindi fra esattamente 9 giorni tenetevi assolutamente pronti. Per tutte le informazioni come al solito le trovate in community. Parliamo subito dell'elefante nella stanza. Un successo pazzesco è stato alle spalle di una delle release più belle degli ultimi anni. La Jordan 4 SB Pine Green ha davvero lasciato con il fiato sospeso tantissimi appassionati. E all'inizio non vi nego che anche da parte mia c'erano tantissimi dubbi. Tantissimi dubbi per il semplice fatto che il brand SB ovvero la parte di Nike che crea delle scarpe per gli skater tende comunque a fare delle scarpe molto più imbottite, molto più chunky. E mettendo questa idea qua in una Jordan 4 che di per sé è molto spessa e anche abbastanza scomoda poteva risultare un po' nella classica porcheria alla Nike e ne ha fatte durante il corso degli ultimi anni. Però è uscita la scarpa davvero tantissima roba. Anche perché diciamocelo chiaramente chi è che skata con delle Jordan 4? Cioè la scarpa degli skater che ce l'ho io nel mio immaginario è la Vans ecco. Appunto è sempre stata molto molto apprezzata ma anche la Dunk Low SB per il fatto che è una scarpa abbastanza comoda comunque non ingombrante ecco perché mi immagino a fare i trick voi skater magari lo sapete meglio di me anche perché io non skato che bisogna avere un minimo di comfort di libertà nei movimenti no senza avere una scarpa proprio ingombrante. Invece non è vero è stata proprio un grandissimo successo ed uscirà un paio nuovo nel 2025 sappiamo solo che uscirà springs quindi cosa vuol dire vuol dire primavera possiamo benissimo magari metterla queste sono uscite a maggio se non sbaglio entro i primi 15 giorni di maggio forse il 14 così vado d'occhio potrebbe essere tranquillamente il fatto che verrà rilasciata marzo aprile però durante questi mesi. L'hype sarà molto molto importante a meno che non succeda qualcosa di super eclatante però ad esempio questa è un'ottima scarpa anche da old ovviamente non do consigli finanziari però l'idea dietro un SB che già di per sé è molto apprezzata renderà il prossimo modello super ricercato con dei prezzi abbastanza folli. Design abbastanza simile a questo solamente con degli accenti blu davvero davvero tantissima roba. Beh stiamo parlando sempre di Jordan 4 quindi mi collego con questa Blue Thunder non penso che si chiamerà Blue Thunder anche perché la Thunder in genere è sempre quel modello che alterna due colori il nero e il rosso o il nero e il giallo per la yellow. Questa invece alternerà il blu al nero ma anche con un particolare che a me non piace chissà che con il Jumpman rosso della linguetta che sinceramente stona parecchio ma vi dirò sarà un paio super da amaranza. La Blue Thunder è sempre stata una scarpa che tutti la volevano tutti o almeno tantissimi appassionati per il semplice fatto che è una colorazione super pulita possiamo vedere gli esempi appunto della rossa e della gialla. Non abbiamo una data precisa per il rilascio di questa però dovrebbe avvenire più o meno assieme alla SB quindi aprile marzo o febbraio comunque ad inizio del 2025. Vi piacerebbe se StockX facesse delle vere e proprie aste per le scarpe? Beh quello che è successo con alcuni modelli tra cui anche la Jordan 1 Black Phantom in collaborazione con Travis Scott. Potrebbe essere una modalità molto curiosa anche perché è stata fatta già da alcuni siti americani uno tra questi come eBay che è super famoso per le aste. Potrebbe essere un'idea molto bella? Beh diciamo che se poi la scarpa raggiunge comunque un vero valore di mercato e quindi non sono le aste nel sito sperduto. Anche se c'è da dire che i prezzi di StockX sono davvero davvero ottimi per la maggior parte delle scarpe ad edizione limitata proprio perché è un mercato talmente tanto grande che c'è dal reseller privato che proprio non paga un briciolo di tasse quindi le svende che si accontenta di quei 10 euro o addirittura c'è gente che le vende under retail magari compra un bulk quindi sono 20 scarpe già lui le paga molto under retail di conseguenza le svende su StockX e quindi fa abbassare i prezzi di mercato. In realtà qua in Europa i prezzi di mercato li decide la maggior parte delle volte StockX che ha un volume di vendita davvero immenso e difatti durante il 2022 è stata valutata più di un miliardo di euro proprio come azienda qualcosa di assolutamente incredibile. Uno dei miei modelli preferiti di Jordan 1i sono le Obsidian. Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di portarmela a casa ad un prezzo super onesto e di conseguenza purtroppo non le ho mai indossate per capirci. Però questo modello Jordan 1 Low è molto accattivante uscirà sempre durante il corso del prossimo 2025. Ultima notizia ragazzi e poi chiudiamo la baracca. In Oregon Nike ha licenziato 750 dipendenti hanno stimato che vogliono risparmiare circa 2 miliardi di dollari nel corso dei tre anni che andranno dal 2024 2025 e 2026. Beh questa è una notizia abbastanza discutibile dal momento che al posto che ridurre i costi potrebbero innovarsi e creare qualcosa di figo per aumentare i guadagni. Chi sono io per dare consigli a un'azienda come Nike? Assolutamente nessuno. Però tra questa notizia, quella dello scorso caffè hype, quindi che Nike sta cercando molto di più di innovarsi creando nuovi modelli perché diciamocelo chiaramente. Non potete dirmi che le Nike DN sono innovazione. Innovazione è quando una scarpa entra proprio nello scenario collettivo che diventa proprio un pezzo di lifestyle. Ed i modelli che Nike ha prodotto ce ne sono stati tantissimi. È stata assolutamente il leader per quanto riguarda tutte le scarpe degli anni 80 e 90 con Jordan ma in realtà anche con le Dunk oppure con l'Air Force e le Air Max che vanno dalla One alla 97. Cioè diciamo che Nike è sempre stata molto sul pezzo che purtroppo ha perso un po' di smalto negli ultimi 10-15 anni. E sarebbe il caso che iniziassero ad innovarsi proprio come si deve. Cioè l'ha fatto Adidas con un paio di campus prodotte nel 2020 con le 0-0. Quindi il mercato ha una fortissima domanda per quanto riguarda la classica sneaker da tutti i giorni. Ragazzi io mi finisco il caffè apprezzerei che mi faceste sapere nei commenti un po' cosa ne pensate voi della situazione Nike perché comunque è un ottimo argomento di discussione. Vi ricordo come al solito di mettermi un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video. Buona giornata a tutti.